Estate Italiana Rimini è una delle locazioni più famose in Europa e ha tutto quello che qualcuno potrebbe volere da Italia La piazza di piazza, luogo di luogo, giochi di bambino e città È anche una città di arte con monumenti romani come la Tiberius Bridge Con la sua vita vibrante, Rimini è l'Italia favorita di piazza di piazza Bully Beach 75 è uno dei trendiesti e best-equipped baiting establishments di l'Adriatico A Bully Beach you can have fun by playing beach volley, ping pong or bocce There is also a play area for kids and entertainment throughout the day Or you can just relax and enjoy the summer When in Rimini you can't miss to visit the Grand Hotel di Rimini A 5 star hotel that has been featured in Federico Fellini's movie Especially in Amar Kord And right across the street there is a piece of art This is a pop art from the 60's And is a gigantic Ferrania Galileo camera Dallele Restaurant provides the best seafood dishes in Rimini since 1950 We are here at Dallele in Rimini with the owner, Mr. Gabriele Mondaini Thank you for having us And we are going to see how to make fresh pasta from scratch That's unbelievable So come with me And see this beautiful woman Which usually is called a spuglina She makes pasta from scratch This is egg pasta She is going to make tagliolini Handmade egg pasta is made with only two ingredients Flour type 00 and fresh eggs Ok Well, what time she prepared? Not before but at the moment She prepared the sea fruits For the scoop And the scoop of your daughter Oh my goodness Actually this is the pasta that my daughter ordered Palamari Gamberry Gamberry Creams Alio Prezzemolo Ola Parsley Extra virgin olive oil Or olive oil Pepper 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 And white wine That's a trick La siesta restaurant at BeachBully75 è il posto perfetto per l'informale di piadina In Emilia Romagna non potete farvi provare piadina la tradizionale flatbread piena di prosciutto crudo di farma scuoccherone cheese e rucola Buon appetito! Ciao a tutti e vediamo la prossima! Grazie a tutti!